Ciao a tutti, oggi andremo a lavorare un piccolo copriscignon per le nostre piccole principesse oppure semplicemente per accessorio per capelli. Io ho utilizzato un filato di cotone della linea Ofelia. Questo filato di cotone, in particolarità questa è la linea Gemma, è molto versatile, i colori sono molto belli, lucidi, vivi e mantengono così anche dopo il lavaggio perché con questo tipo di filato io ho lavorato dei vestitini per la mia bimba e devo dire la verità mi sono trovata benissima, è un filato che scivola bene sull'uncinetto, è un 50% cotone e un 50% di acrilico questa linea qui, ma veramente rende bene. La particolarità di questo copriscignon che oggi andremo a lavorare è che sotto ha un elastico, questo elastico ci permetterà di agganciarlo bene ai capelli, lo renderà un po' più stabile e più fisso. Io ho lavorato, ne ho fatti un pochino perché mi piaceva l'idea di prepararne qualcuno in più, ho fatto questo rosso, questo rosa e questo qui che è ancora più particolare perché ho utilizzato sempre della casa Ofelia un filato che si chiama Peggy. Questo filato è lo stesso tipo di particolarità, è un cotone molto buono che scivola bene ma è uno sfumato, questo significa che se facciamo un vestitino con questo tipo di filato, tipo uno scamiciatino, non necessita neppure di essere ricamato oppure di mettere qualche altro tipo di applicazione all'interno perché già solo lui è bello così da vedere, ha una bella sfumatura e si lavora molto bene, molto facile. Vedete anche questo qua ho applicato l'elastico alla fine in modo che al suo interno i capelli vengono raccolti bene. Allora passiamo al nostro tutorial, abbiamo detto ci occorre semplicemente un gomitolo di cotone, in questo caso io ho utilizzato questo fucsia perché tra le 50 sfumature di rosa mi mancava un fucsia semplice per la mia piccolina e un uncinetto numero 3,5, un ago da lana e poi per finire ci occorrerà un semplice elastico per capelli che andremo ad inserire all'interno della lavorazione. Questo tipo di lavorazione è molto semplice come abbiamo detto, si lavora inizialmente con un cerchio magico e poi si prosegue con maglia alta, maglia bassa e catenelle. È una lavorazione molto semplice, lavoreremo massimo 6 giri e si conclude veramente molto veloce ma ha un grande effetto, veramente viene bene sui capelli. Allora cerchio magico e iniziamo. Inizierò con 6 catenelle, perché 6 catenelle? Perché 3 rappresenteranno la mia maglia alta di base e 3 invece le mie catenelle per poter formare poi l'archetto. Quindi 3,4,5 e 6. Ora all'interno del mio cerchio magico appena creato io andrò a lavorare una maglia alta. Poi lavorerò 3 catenelle, inizierò a formare i cosiddetti archetti, 1,2 e 3 catenelle. Vedete? 1 e 2. Dovrò avere 10 archetti, quindi arriveremo fino alla fine con 10 archetti per poter poi lavorare il secondo giro. Arrivate al nono giro, il mio nono archetto, faccio sempre le mie 3 catenelle, ma non andrò a creare un'altra maglia alta all'interno del cerchio magico, ma andrò a chiudere nelle prime 3 catenelle fatte all'inizio, ok? Perché abbiamo detto che le prime 3 catenelle dell'inizio rappresentano per me una maglia alta, quindi all'interno della terza catenella lavoro una maglia bassissima e chiudo così il mio primo giro. Eccola qua. Maglia bassissima e chiudo così facendo il mio primo giro. Tiro un po' il filo così il cerchio inizia un po' a stringersi, dopo tanto lo fisseremo bene bene. Allora, secondo giro. Il secondo giro si inizia un po' come il primo, le mie prime 6 catenelle, 1, 2 e 3. In realtà è uguale 3, 4, 5 e 6, ok? Poi cosa faccio? Una maglia alta all'interno del mio archetto, maglia alta, e 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ritorno nel mio archetto, questo qua, vedete? Maglia alta. E di nuovo, ripeto, mie 3 catenelle, 1, 2 e 3. Maglia alta. Allora, arrivato a questo punto, continuo fino alla fine dei miei archetti. Sto creando altre asole, vedete? Per poter poi continuare la lavorazione con il terzo giro successivo. Siamo all'ultimo giro, sempre nell'ultima asola. Io creo la mia maglia alta, 3 catenelle, 2 e 3. E come per il primo giro, chiuderò con una maglia bassissima nella mia terza catenella di base che ho creato prima. Maglia bassissima e tiro su. Catenella, fatto. Allora, iniziamo il nostro terzo giro. Col terzo giro abbiamo una lavorazione un po' più ampia. Andremo a creare degli archetti formati da una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, all'interno della stessa asola. È molto semplice, si crea nel seguente modo. Allora, iniziamo sempre con le nostre 6 catenelle di base che ci compongono 3, la maglia alta e 3 sarebbero le catenelle di giro, 2 e 3, che compongono l'archetto. Poi, maglia alta nell'archetto, vedete? Allora, una maglia alta, 3 catenelle, 2 e 3, maglia alta, ok, e continuo così. Sono già a 2, dovrò completare con la terza nello stesso archetto, o meglio, in questo caso qua, la mia terza è già fatta perché è composta dalle 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo senza creare mai catenelle nel mezzo, quindi si uniscono un po' le due, creano questo archetto un po' più stretto. Continuo, 3 catenelle, 2 e 3, maglia alta, quindi nello stesso archetto sono 3 maglie alte e 2 gruppi di 3 catenelle, e la terza maglia alta, così, et voilà. Vado nell'altro archetto senza fare catenelle, vedete? Ok. Riparto con le mie 3 catenelle, maglia alta, e farò così fino alla fine di questo giro, per poi poter iniziare i giri successivi. Siamo arrivati alla fine del giro con gli ultimi gruppi di 3 maglie altre e 2 archetti, andrò come prima nella terza catenella lavorata all'inizio, e chiuderò con una maglia bassa. Anche in questo caso abbiamo fatto la stessa lavorazione come per l'inizio. Ora dovremmo creare questo motivo a rete, come vedete qui. Vedete la lavorazione poi a un certo punto giustamente prende quasi un motivo a rete. Ora noi andremo a creare questi 3 giri di rete per poter poi applicare alla fine l'elastico. In totale sono 6 giri che io ho lavorato, ma ognuno è libero di farlo alto quanto vuole. Credo per il filato che ho usato io, per l'uncinetto che ho ora, 6 giri sono più che sufficienti perché veramente riescono a prendere un bel gruppo di capelli all'interno. Magari se ecco c'è una bimba con un codino un po' più piccolo, con un copricigno, bisogna farlo un po' più piccolo, bisogna ridurre già dall'inizio i giri. Allora a questo punto non semplicemente faccio una catenella, devo creare le mie 8 catenelle in pratica, faccio una prima catenella per poter lavorare meglio. Ora andremo a lavorare non più negli archetti, come abbiamo fatto all'inizio, 1 e 2, non li lavorerò più, ma lavorerò nelle due maglie alte vicino, vedete che raggruppano un po' gli archetti prima e dopo dei punti sottostanti. Allora, quindi in questo caso il mio primo archetto, le mie prime due maglie alte sono queste qua. Lavoro un po' una catenella per avere un po' più di agilità, prendo stesso qui sotto una maglia bassa e da qui io inizio a lavorare le mie 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Punto l'uncinetto, non negli archetti ma tra le due maglie alte, maglia bassa e vado avanti, 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado di nuovo nelle due mie maglie alte, è veramente molto semplice questo copriscino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e rivado nelle mie due maglie alte. Inizia a formarsi così questo motivo un po' più a rete, ok? Proseguiamo così fino alla fine. Allora, arrivati a questo punto, siamo di nuovo al punto di partenza, abbiamo concluso il nostro primo giro, lavoro una maglia bassa e riparto di nuovo con le mie 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, ora ritorneremo a lavorare negli archetti, quindi nelle catenelle formate noi andremo a lavorare 8 maglie basse, scusate, 1 maglia bassa e 8 catenelle, questo giro lo completeremo, faremo due giri così e avremo finito così tutta la lavorazione, diciamo, della rete e poi dovremo applicare semplicemente l'elastico alla fine e il copriscignone è completato, quindi andiamo a lavorare 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, è scappato il filo, 6, 7, 8 e maglia bassa. Facciamo questo per questo giro e ancora un altro. La lavorazione in rete si sta completando. Io sto continuando la lavorazione anche del terzo giro, abbiamo detto uguale come quello sottostante, 8 catenelle e poi maglia bassa nell'archetto. Continueremo anche questo terzo giro fino alla fine nel seguente modo, quindi alla fine avremo semplicemente 6 giri. In totale tra l'inizio e alla fine avremo 6 giri, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e continueremo così fino alla fine. Ok, sono arrivata alla fine, lavoro un punto bassissimo nella maglia bassa precedente così da chiudere anche il terzo giro di archetti. A questo punto dovrò inserire all'interno della mia lavorazione, che come vedete è in tondo, è bella piatta in questo momento, tiro un po' il filino così già il cerchio centrale inizia a chiudersi. Dovrò inserire all'interno l'elastico per far sì che avvenga questo tipo di movimento alla fine. Ok, vedete? L'elastico inserito, che si chiuderà bene poi in testa con le linde. Allora, a questo punto inserisco l'elastico. Allora, filo dietro, filo dietro, metto l'elastico, non so se si vede bene, l'elastico vicino all'archetto sottostante. Devo lavorare maglie basse, prendendo il filo, il filo deve passare anche attraverso l'elastico, quindi includo nelle mie maglie basse l'elastico. Vedete? La posizione migliore è questa, cioè il filo che passa sopra l'elastico, non so se ci riesce a vedere, il filo che passa sopra l'elastico e da sotto io vado a prendere e lavoro la mia maglia bassa all'interno dell'archetto. Vedete? Sono due, sono tre, quattro, cinque, io ne lavorerò otto di maglie basse, sei, sette e otto. Ma se volete pure sei vanno bene. Ecco qua, vedete? L'elastico è incluso all'interno. Continuo così per tutti gli archetti. Man mano potreste vedere che l'elastico tende a stringersi, ovviamente perché è più piccolo rispetto al nostro copricignon, ma non c'è problema, basta tirarlo un attimo e vi verrà fuori altro elastico da coprire. Quindi tranquille su questo, se vedete che l'elastico sta per scomparire. Ok, vado avanti, sempre otto maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Ok, vedete? Sembra che non ho più elastico a questo punto. Io cosa faccio? Tiro l'elastico così e mi ricompare. Vedete? Ritorna su. Torna tanto elastico di nuovo da poterlo lavorare. Io per comodità ne ho già un altro pronto dove ho già inserito all'interno l'elastico. Eccolo qua. Vedete? Sono arrivata alla fine, quindi dovrò semplicemente, perché ho fatto questo per tutti gli archetti, quindi ho passato l'elastico in tutti gli archetti con una maglia bassa. A questo punto dovrò solo chiudere. Faccio una maglia bassissima. Nella prima maglia lavorata. Ecco qua. Così ne do un'altra. E poi tiro il filo. E il mio lavoro è concluso. Ora cosa dovrò fare? Semplicemente dovrò nascondere tutte le codine e chiudere il cerchio d'inizio. In questo caso mi aiuterò con un ago da lana. Semplicemente con un ago da lana andrò a fissare il cerchio d'inizio. Va dal rovescio. Nascondo sia la codina, ma farò anche un piccolo nudo per poter fissare bene, 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 poi il punto proprio d'inizio della lavorazione in cerchio che abbiamo fatto. Attendo sempre dal presupposto che se lo indossa un bambino avrà sicuramente dei movimenti maggiori, quindi preferisco sempre fissare un po' di più rispetto a se lo utilizza un adulto. Poiché il mio destinatario in questo caso è una bambina, quindi anche se è teenager lo rifisso un po' di più. Nascondo un altro poco poco le codine e taglio, tra poco taglio. Anzi, faccio un altro nudo di sicurezza e poi taglio. Corbici. Prima codina che va via. La seconda è questa qua dell'elastico che abbiamo chiuso nell'elastico. stessa cosa, vado un po' nelle maglie sottostanti per nascondere la codina. In questo caso ho lasciato un po' troppo filo. scendo un po'. Faccio un nodino giusto di sicurezza, anche in questo caso. Poi volendo possiamo comunque decorarlo, il nostro copiccignon con magari paillettes belle luminose, oppure con degli strass che si incollano a caldo. Dipende poi da cosa dobbiamo farne, qual è l'utilizzo, oppure chi è l'utente finale, come lo vuole. Ma veramente poi dopo libera scelta, la fantasia, i gusti, come più piace, così si può fare. Ok, finisco di nascondere la codina bene bene. taglio e il mio copiccignon è finito. Questo è un fucsia come colore. Vedete? È carino proprio perché ha questa particolarità dell'elastico che manterrà benissimo i capelli delle nostre principesse. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, semplice e chiaro da capire. Per qualsiasi contatto potete comunque andare sulla nostra pagina Facebook e lasciare un commento. Vi ringrazio per un like. Grazie mille e al prossimo tutorial. Grazie mille.